Se ne parlo va in musica! Il mattino è diventato un poeta Se amare più forte di te Non so più fare come se non fosse amore Se per ora dico io che penso a te Se evitiamo a te ancora Correrai Mane dentro primavera Dentro di un sé Per ora dico io che penso a te Che fredda c'era Mane dentro primavera Che fredda c'era Se fa male solo a me Che fredda c'era Che fredda c'era Che fredda c'era Che fredda c'era Lo so che vi viene voglia di ballare insieme a loro Che meraviglia E allora tornano in pista Giulia e Gabriele e arrivano in pista Domenico Ariberti e Giulia De Maio iniziamo con lo Slow Fox è inutile suonare qui, non vi aprirà nessuno il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla tv, solo io, solo tu è inutile chiamare, non risponderà nessuno il telefono è volato fuori giù da porto piano era l'importante sare Glow Fox vi presentiamo il Quick Step il tuo palo americano, americano, americano sienta me qui tu fa a fare tu vuoi vire alla moda ma si vedi un rischio in sola potre sienta disturbare va a ballo rock'n'roll tu gioca al verso il po' ma so che per il canale chi devi dar la borsa è talino ma tu vuoi far l'americano, americano, americano ma di la vita di sienta me non c'è sta niente a far oh che l'amorità tu vuoi far l'americano, tu vuoi far l'americano come te poca picchietta fo bene se tu la farei molto americano quando te fa l'amore so da l'una con me te per il canale che I love you tu vuoi far l'americano, americano, americano sienta me qui tu fa a fare tu vuoi vivere alla moda quasi meglio tu vuoi essere in sola c'è il saluto a Giulia e Gabriele e Domenico e Giulia facciamo entrare tutti gli altri in pista tenendo la musica in tutto fondo grazie Francesco tutti gli altri in pista prego entrate, entrate, entrate per i saluti e gli auguri che siamo davvero dei giorni meravigliosi quelli che arriveranno per il Centro Danza Marche per il corpo va bene per il corpo va bene per la mente andate a parlare iscrivetevi a scuola fammi salutare gli struttori tecnici Federico, Minco e Gabriele per tutto quello che volete imparare Centro Danza Marche c'è Federico Gabriele ma Mirko dove è andato? grazie a tutti